Questo animale peloso è un cucciolo canepastore, se non avessi il sile lo chimerai Buster. E' un incidente del lupo e si sa che appartiene l'aspetto canis familiaris dell'ordine carnivori, del sotto ordine di caniformi e della famiglia di canidi come gli sacalli lupi, solo che è un'aspetto domestica, si vede solo come un cane. E inoltre questo è bianco con le strisce nere negli occhi come il tasso, Meles Meles. E inoltre ho portato un richiamo per il picchio moratore e per lupupa.